Buongiorno a tutti, sono Peppe Rudine e sono sempre qui con voi. Questo è il quinto episodio dei miei videoassaggi dei pepper di Marco Maccarini, vi ricordo Cassina Beneficio se volete acquistarli. Partiamo subito, questo sarà un videoassaggio non adatto ai deboli di cuore perché ci saranno due varietà ciocco tra le più estreme in circolazione. Allora, la prima, Wacky Flame. Peperoncini rugosissimi, veramente compatti, sono stati creati da Davide Chitti, probabilmente un ibrido tra un Seven Pot Lava e un altro pepper sconosciuto. Sono piccolini però bellissimi veramente esteticamente, assomigliano anche un po' ai CPR, vado subito a provarne uno allora, poi solito minutino e procederò col secondo pepper. ultra placentato, me l'aspettavo. Un aroma agrumato però meno intenso rispetto a quello di ieri del Big Riot, guardate qua che placenta. Partiamo subito allora. Bello frizzante in bocca. No, comunque per ora è un sapore agrumato dolce che ricorda la scorza di lime, un po' acidulo ma piacevole. Non ha la dolcezza, diciamo, ai livelli del Big Riot Choco, però comunque è gradevole. Piccantezza vi saprò dire tra poco, appena metterò il video in pausa. E quindi stacco e ci vediamo tra un attimo. Ok, rieccomi qua, stavolta ho lasciato passare un po' di tempo proprio per resettare completamente le papille gustative. Allora, un pepper da un sapore simile inizialmente al Carolina, con un buon agrumato. E poi si è evoluto in un sapore più torrefatto. Mi è venuto in mente il tabacco, quasi quasi. Comunque è buono. A giudizio direi un 7,5, non ai livelli del Big Riot Chocolate, al quale mi ero anche dimenticato di dare i voti, tra l'altro. Avrei dato un 8,5 per il sapore e un 9,5 per la piccantezza. Veramente solo il butlà chocolate e un filo il butlà caramel al di sopra. Questo qua, molto bello esteticamente, guardate qua che spettacolo. Avrei dato un voto altissimo per l'estetica, per la piccantezza invece non esagerata. Comunque elevata, però lo piazzo sotto il Carolina Reaper, direi un 8,5. Bene, bando alle ciance. Passiamo col secondo pepper. Eccolo qua, proprio lui, Carolina Reaper Chocolate. Allora, ne voglio provare uno grande, come questo. Carolina, ormai lo conoscono tutti. La tonalità ciocco non l'ho ancora provata. Anche questo, placenta da vendere. Aroma meno agrumato, direi. Sembra più sull'erbaceo, più sull'affumicato anche. E quindi, via. Questo è già più affumicato. Comunque un sapore, per ora, non amaro, gradevole. Sento già un po' le notte speziate, simile al Carolina Classico. Un po' sulla cannella, direi. Uno speziato dolce. Molto buono, per ora. Meno agrumato, però, rispetto al Waki Flame. Bene, pausa. Rieccomi qua, ragazzi. Bella bomba. Siamo a 6 minuti. Bella bomba. Sento proprio il calore in faccia. Comunque, come gusto, devo dire, è particolare. Meno agrumato del Waki Flame. Poi è messo un erbaceo molto, molto strano. Mi ricordava quasi il carciofo. Comunque, ho preferito il Waki Flame. Come voto al sapore, darei un 7. Niente di più. Per la piccantezza, veramente alta. Diciamo che ha preso la gola meno rispetto al Butlac Chocolate e al Butlac Caramel. Però lo piazzerei subito dopo. Secondo me, un pelo sopra il pigraio di ieri sera. Veramente forte. Caroline Ripper Chocolate. Un bel 9,5 quindi anche per lui. Bene. La piccantezza ora sta mollando la presa. Ci vediamo con l'ultimo video. Probabilmente dopo domani. Un live la sera con il Lord Ruthven di Diego Drax. Ciao a tutti. Alla prossima.